Nel 1294 d.C. un vecchio e umile eremita eletto Papa all'ardire di rinunziare al trono più potente del mondo. Io, Papa Celestino V, abbandono il pontificato e rinuncio espressamente al trono, alla dignità, al peso e all'onore che esso comporta. Pietro, dove sei? Pietro! Non mi nascoglio! Pietro, non spaventarti. Volete davvero una cella? E una cella avrete. Ma dove dico io? E dove non incontrerete altri che il Signore? Cerca la tua cella solitaria, Pietro. Ma non dimenticare che una cella avrai nel cuore. Sempre, Pietro. Sono imbarzante questo vecchio, ostinato. Io non gli permetterò di creare scompiglio nella mia chiesa e di spaventarmi ancora, no? La verità, padre! La verità! Voi avete ancora la possibilità di sceglierla. Voi avete ancora la possibilità di sceglierla.